Cosa è una delle migliori cose da fare in Tenerife? Benvenuti a Crepillare, like e suscritti! Ok, bene, andiamo! Tenerife offre visitanti una meravigliosa e trattante esperienze con i miei majestici valli e i giochi giochi che inhabitano i valli solo sull'attività sull'attività. Ha, ha, ha! This region boasts a bountiful food supply creating an ideal environment for these magnificent creatures. perché non è lì? Oh no, è da qui, oh. While various species of whales grace these oceanic depths, the pilot whales take center stage as the most abundant and accessible residents of Tenerife. Oh wow, wow. So choose your favorite boat tour and embark on this fantastic adventure!